Per la prima volta lo saluto di San Domenico e tutti i miei amici facciamo un saluto dal vivo così. Ma non potete avere, non potete avere paura di me. Voglio un'usso caderno per la prima volta, ma sul curiosetto voglio essere in te. Ora faccio un prezzo perché mi aspetta il centro. Non dico che mi va aperto. Ottimo. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.